Bentornati con le consiete previsioni a cura dei meteo 1. Continua l'afflusso di perturbazioni atlantiche sulle regioni settentrionali con ulteriore calo termico e formazioni di violenti temporali. Sulle regioni meridionali invece siamo agli ultimi scampoli di questa lunga e intensa ondata di caldo. Dal weekend infatti, soprattutto domenica, calo termico anche di 10 gradi con le temperature che ritorneranno nella media del periodo. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 30 giugno. Al mattino tempo generalmente soleggiato con qualche nube alta solamente sulla Puglia settentrionale e Gargano. Nel pomeriggio e sera cieli sereni ovunque. Per quanto riguarda le temperature nuovamente in rialzo di 4-5 gradi con punte massime che nelle zone interne del barese materano e interne leccisi potranno toccare i 38-40 gradi. Denti deboli di scirocco in rinforzo sul Salento, in rotazione nella notte dai quadranti settentrionali, segno del cambiamento in atto. Per quanto riguarda i mari, poco mosso o calmo il basso Adriatico, mosso o poco mosso il canal d'Otranto e lo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Nunzio Micale per aver fotografato questa splendida alba a Vieste che preannuncia una giornata caldissima. Se volete inviarci la vostra foto del giorno contattateci al numero whatsapp e le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.